Se stai pensando a che torta preparare per la tua colazione o la merenda, questa è quella che fa per te. È una torta al cocco senza burro, leggera, ma soprattutto è sofficissima. Versate in un setaccio la farina, il lievito e un pizzico di sale. Setacciate il tutto direttamente nella ciotola. Unite poi lo zucchero e il cocco rapè. Aggiungete poi le uova, l'olio di simi di girasole e il latte di cocco. Lavorate ora tutti gli ingredienti con le fruste elettriche, fino ad ottenere un composto senza grumi. Oleate la tortiera e infarinatela. Eliminate poi la farina in eccesso. Versate il composto appena preparato. Fate cuocere a forno statico già caldo a 180 gradi per 50 minuti. E se lo ho fatto io, lo puoi fare anche tu. Passo il composto appena preparato. Grazie.